il 2009 poi saliremo sul palco faremo una bella ballata tutti insieme e non si sa mai che incontrate il pastore proprio qua abbiamo il cantante dei Magenta ti chiami? Sergio vuoi salutare tutte le tue fans? Sergio, grazie a tutti i fan che sono qui presenti veramente tantissimo grazie mille gli auguri li hai fatti un buon anno dai Magenta a tutti quanti a voi, a presto la golezza grazie mille 20, 9, 8 7, 6 5, 6, 8 3, 2, 1 votando 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 conizia ai maliziani musica venite su a festa in cale grazie mille grazie mille grazie mille a tutti i figli grazie mille a tutti i figli Siamo gli unici a avere! Buongiorno! Buongiorno! Abbiamo bisogno di due puntacuoni volontari dietro al palco Allora veniamo in razzardo! Ciao! Troppa gente sul palco in questo momento sono dietro di te Buongiorno! 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 come questa va bene Gorizia, vogliere bene a cielo per Gorizia TV la nostra TV cazzo lo dai? uno a uno si prendono Il tuo diritto il tuo diritto il tuo diritto il tuo diritto un 2009 da sballo un 2009 da Sbaio un pumpe il tuo diritto un uno per il 2009 ahhh Grazie mille, ciao! Ok, va bene, grazie! Grazie mille, ciao! Grazie mille, ciao! Grazie mille, ciao!